falegnameria paludetto da più di 60 anni il legno su misura a casa tua parliamo di calcio a 5 siamo in collegamento con kevin darei portieri dello sporting musile innanzitutto che in buonasera grazie per aver accettato il nostro invito buonasera grazie a voi per l'invito grazie a te naturalmente allora kevin parlando dell'ultimo impegno ultimo ovviamente solo in termini di tempo non certo di importanza contro le zelina avete vinto 7 a 0 un risultato netto frutto appunto di sette marcature soprattutto nessun gol subito a merito in buona parte tuo con degli ottimi interventi ci racconti a mente fredda come è andata assolutamente è andata molto bene abbiamo la squadra regito bene abbiamo pressato abbiamo cercato sempre di chiudere tutte le nostre giocate e anche a livello difensivo abbiamo risposto a tutti gli attacchi e non siamo riusciti e siamo riusciti a non prendere gol e questo sicuramente importante e per quanto riguarda il momento che state attraversando dello sporting musile questa vittoria oltre a quella di alcune settimane fa seconda consecutiva in casa è stata sicuramente a parte ovviamente il discorso della classifica una bella boccata d'ossigeno anche per il morale sì anche il spogliatoio è stato un bel festeggiamento assolutamente che cosa è mancato quest'anno secondo te c'è stato un periodo un po alto allenante per via anche del cambio di allenatore ed eravate partiti con obiettivi diversi sì diciamo che ci sono stati dei cambiamenti alti e bassi e adesso credo che abbiamo raggiunto l'unione della squadra abbiamo fatto il gruppo che forse era la parte mancante che abbiamo appunto risentito di questa mancanza di unione parlaci un po di te kevin è il tuo primo anno allo sporting musile come ti stai trovando eh sì è il primo anno mi sto trovando molto bene è un'ottima società partendo dal presidente allenatore da dal gruppo che che si è creato e non avevo fatto anni in categoria in serie d precedentemente quindi è stato un po difficile inizialmente eh allenamenti la pressione eh e tutto tutta la la fatica che eh ci si mette comunque durante gli allenamenti settimanali però i risultati si sono visti in poco tempo e sono tutti degli ottimi compagni di squadra che ti supportano e questo è una bella cosa un bel gruppo e si sta bene tu eh quando hai cominciato a giocare a calcio a cinque raccontaci un po raccontaci un po il tuo percorso sportiva eh ehm prima giocavo a calcio poi sono mi sono orientato al calcetto sempre come portiere e inizialmente con categoria amatoriale CSI e prima ancora con partitelle tra tra amici e tornei estivi e mi mi piaceva scegliere comunque una un percorso eh più serio e quindi poi è arrivata la proposta dello sport in Musile che mi ha dato la possibilità di iniziare eh con una categoria molto più invitante. Hai sempre giocato in porta dicevi come mai la scelta di questo ruolo? eh questo è una domanda un po difficile non c'è una risposta mi trovo bene in porta e ho sempre giocato in porta è una scelta un po così non non imposta ma una scelta è capitato un po per caso diciamo e ti sei trovato bene giusto dire così? Sì esatto esatto esatto. Quali sono le tue prospettive future non solo di squadra con lo sporting Musile ma anche tue personali? A che cosa ambisci? Ho sempre degli obiettivi personali cerco sempre di migliorarmi su quello che che faccio e quindi il mio obiettivo è quello di crescere sempre di più in ambito calcistico e essere un punto di riferimento negli anni poi per lo sport in Musile. E una volta che avrai appeso speriamo il più tardi possibile i guantoni al chiodo che cosa farà che mi darei da grande? Eh questa è una bella domanda non lo so è una domanda che non ha al momento una risposta. Ma nel senso vuoi proseguire nell'ambiente del futsal? Sì sì assolutamente assolutamente. E come diceva qualcuno chi vivrà vedrà. Nel frattempo auguriamo naturalmente il meglio a Kevin Dare portiere dello Sporting Musile che ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie mille grazie a voi buona serata. Grazie mille grazie a tutti! Grazie.